Per l'occasione attorno alla chiesa di San Giuliano ha preso forma il villaggio medievale, spazio anche alla falconeria con tre meravigliosi esemplari di falco, corvo e gufo. Nella notte federicina è stato rievocato l'arrivo di Re Federico con la consegna delle chiavi e un suggestivo spettacolo in suo onore con tamburi, musici, sbandieratori, danze e giocolieri di fuoco e sputafuoco. Domenica si è invece tenuto il settimo raduno regionale di Sicilia con la presenza di otto gruppi, compagnia della stessa di Messina, Sicula Ragonesia di Randazzo, musici e sbandieratori Casa Normanna di Motta Sant'Anastasia, tamburi di Buccheri, i conti Moncada di Cammarata e San Giovanni Gemini, gruppo Saip di Salemi e il locale gruppo medievale Monte San Giuliano di Erice. Nel pomeriggio oltre 200 figuranti in abiti storici hanno quindi spilato per le vie del borgo contornati dal pubblico delle grandi occasioni. Soddisfatti il sindaco di Erice Danilo Toscano e l'assessore Rossella Cosentino, entrambi presenti all'iniziativa che è stata patrocinata dal Comune. Claudio Maltese, organizzatore della manifestazione, ha evidenziato come ormai la festa federicina sia diventata l'evento storico per eccellenza della città di Erice, assicurando che sarà fatto il possibile insieme all'amministrazione comunale per poterlo ogni anno ingrandire, facendolo diventare un'attrattiva turistica, culturale e storia del territorio, ha rimarcato il presidente dell'associazione Tradumare 20, dando da subito appuntamento al prossimo anno per la non-edizione ricca di tante altre novità.